Qual è il significato della rinascita di democrazia cristiana? Il significato della rinascita di democrazia cristiana direi che è sotto gli occhi di tutti. La mancanza di un centro equilibratore nel Parlamento e nella società italiana hanno provocato degli squilibri, delle situazioni gravi, l'impoverimento dei cittadini, tensioni sociali sempre più sviluppate. Noi sentiamo, e tutti penso che sentano, il bisogno del ritorno di un partito veramente moderato, veramente custode dei valori che contano nella vita, ma contano da duemila anni nella vita nostra, dell'Occidente, nel mondo occidentale. Valori che non possiamo distruggere in un secondo e lasciare il Paese in mano agli altri, che di questi valori non si sentono per niente rappresentanti e non li rappresentano. E quindi vogliamo ingrossare, ripartire da zero, ringrossare le nostre file ed espanderci per suggerire la ripresa, la riadozione, la rinascita di questi valori che hanno fatto dell'Europa e soprattutto dell'Italia, un Paese guida nel mondo. Come si posiziona la democrazia cristiana in un panorama politico fragmentato? La democrazia cristiana è per sua natura aggregante. La democrazia cristiana si pone come sua tradizione al centro dello schieramento politico. È di natura popolare, ma fa gli interessi sia del popolo, sia dell'imprenditore, sia della classe media. E rioccuperemo sicuramente il centro, perché il cittadino lo sa. Il cittadino è stanco del destra, sinistra, estremismi. Il cittadino vuole la pace, la tranquillità, vuole uno stipendio, una pensione decenti, vuole il lavoro. Vuole tutte le cose che la democrazia cristiana ha sempre voluto.